Ciao, sono Silvia e lavoro in un albergo al Buffet delle Colazioni. Faccio parte del percorso avanzato di testa ordinaria di Patrizia e quindi sono qui. Ho deciso di partecipare perché questo posto, questo evento mi chiamava e ho fatto di tutto per esserci. Intanto ancora prima di partire è cambiato qualcosa perché avevo molte resistenze nel partire e avevo deciso di farlo ma avevo paura di lasciare le cose a casa e poi alla fine sono partita lo stesso e ho capito di avere la forza di trovare lo spazio per me. Ho imparato che sono forte e soprattutto per me stessa devo trovare il tempo e la fiducia in me e posso fare quello che sento e posso affidarmi a me stessa e anche all'universo ma prima ad essere fiduciosa in me e questo l'ho imparato soprattutto qui. E ho imparato anche la condivisione con questo gruppo meraviglioso, l'energia che si crea e che c'è. Non è vero che non c'è, c'è. Intanto la pattina mi ha detto iscriviti a quel corso di recitazione e quindi quando torno a casa lo farò ancora per aumentare la mia autostima e utilizzerò in vari ambiti della mia vita e mi porterà sempre ad avere risultati maggiori con me stessa soprattutto e quindi anche con le altre persone e con quello che la grande forse sicuramente riuscirà a fare. Non sarà mai più come prima il fatto di sentirmi sempre all'angolo, di non essere in grado di fare le cose e di avere sempre qualcuno che mi dice vuoi farlo, vai, sarò io a dire che lo posso fare. Mi ha colpito quello che ho detto prima, l'energia che c'è, le persone perché è una famiglia e quando sei nel quotidiano magari ti butti giù perché dici non sono in grado di fare tante cose e poi ti accorgi che invece ci sono persone che hanno la tua stessa sinergia sinergia, vabbè, energia e quindi si crea questo gruppo e questa, non so come dire, questa fiducia anche in te stesso e dire, ok, non sei da sola, ce la puoi fare. Una parola è magia, vabbè, come ho detto, già ho iniziato però non ho avuto risposta ma come ho detto mi scriverò il corso di recitazione e darò anche un po' più spazio a mia sorella nell'aiuto quotidiano con la famiglia, diciamo. Mattina, grazie mille, grazie di cuore per quello che sei e per quello che dai. Grazie. Grazie.